Lei non è la prima tata che si propone per questo lavoro? È sicura di essere all'altezza del compito? Certo. Sono Malcolm. Ciao. Il ragazzo delle consegne, cioè un po' più di un ragazzo. L'avevo notato. Le voglio presentare mio marito. E lui è nostro figlio, Bruns. La musica ti piace tanto, vero piccolo mio? Bruns non è come gli altri bambini. È importante che lei segua le sue regole. Sia buona con lui e lui lo sarà con lei. Senza offesa, ma mi metti ansia. Bruns. Tutto ok? Ho bisogno che qualcun altro veda questa cosa. Di che parli? Se lo lasci da solo, si farà sentire. E dove sta il trucco? Non è un trucco. Raccontami del vero Bruns. Fu una vicenda molto strana. Una bambina veniva sempre a giocare con lui in questa casa. Un giorno la trovarono morta nella foresta. E quando la polizia arrivò, la casa era in fiamme. Bruns non riuscì a uscire. E brucio a vivo. C'è qualcuno? Sono anni che nessuno sale lassù. Non mi faresti del male, vero Bruns? Devi uscire da questa casa. Tu non hai idea di quello che ho fatto? Sì.